Mi avete portato nella città perduta, ora preparatevi a morire. C'erano centinaia di serpenti qui che aspettavano solo il nostro arrivo. Cosa? Perché non mordono lui? Questo è ridicolo. Cancella, cancella, cancella. Loretta, dobbiamo promuovere il tuo nuovo libro sulla città perduta. Non puoi vegetare nella vasca da bagno a bere sciardone con ghiaccio. Signore e signori, il modello da copertina più sexy del mondo. Dash McBell! Sai di non essere Dash, giusto? È un personaggio che ho inventato io. Dash? Oddio. Che idiota. Oh, merda. Signorina Sage, ho apprezzato il suo libro sulla città perduta e credo che lei possa aiutarmi a trovare il suo tesoro. Devo declinare la sua offerta. Io temo di dover insistere. Mi liberi! È la cintura di sicurezza. Loretta Sage è scomparsa. Io la salverò. Voglio che mi consideri più di un modello da copertina. Allen, che cosa ci fai qui? Devo salvarti. Ho fatto un corso di primo soccorso e uno di crossfit. Ho degli snack. Prendeteli! È come il tuo libro. Siamo nell'avventura di Love, Mare, D'Arshola. Lascia che ti dia una mano. Che stai facendo? Non fare così. Sì, esci da lì. Non è un romanzo d'amore. La giungla, quelli come noi, se li mangiano. Che roba è? Ti prego, togli male. Smettila di parlare. Ti prego, smettila di parlare. Smettila di parlare. Oh, no, non farei quel verso. Oh, salto madre. Mi stanno succhiando il sedere come un succo di frutta. Siamo così vicini. È veramente la città perduta. Se non arrivo su quell'isola, la mia amica e il suo modello da copertina moriranno. Guido io. Oh! 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 Loretta Sage, ti tirerò fuori di qui. Perché sei così affascinante? Mio padre era un attore. Ehi, oh, non ha bisogno di quel trattamento. Che ci fai lì?